Il Paradisi delle Signore, trame fino al 12 aprile, Marta bacia il suo ex. Nelle puntate dall'8 al 12 aprile c'è un bacio tra Vittorio e Marta, durante il quale Maria capisce di amare Matteo. E Alciderota dice ad Alfredo Vittorio e Marta sarà una minaccia. Si appiccinano sempre di più e alla fine si baciano e hanno un momento intimo. Intanto la giovane Maria realizza finalmente i suoi sentimenti per Matteo e informa Vito della sua decisione. Ma Perico viene ricattato da Alciderota, avido amico del suo rivale Lorenzo Crespi. Maria lascia Vito Maria torna dal suo viaggio a Parigi, rendendosi conto di amare moltissimo Matteo. Per prima cosa la donna va a chiamare Vito e lo lascia dicendogli che vuole tornare in Francia e lavorare con Difu. Matteo lo viene a sapere e si offre di accompagnare la sua amante a Parigi. Intanto Malvezzi, l'uomo inviato da Umberto a spiare, ascolta la conversazione dei due amanti e riferisce tutto a Guarneri. Don Saverio affida a Marta un'ultima missione prima di concedere l'annullamento del suo matrimonio con Vittorio. Poco dopo Matteo scompare. Tuttavia, subito dopo, la donna si riunisce con l'ex marito e finalmente si baciano. Vittorio non riesce a smettere di pensare a Marta, ma le chiede tempo per comprendere i suoi veri sentimenti. E si sente anche in colpa per l'assenza di Matilde per diversi giorni. Intanto Tancredi apprenderà che Conti e Marta sono in buoni rapporti e deciderà di sfruttare la notizia a proprio vantaggio. Perico è minacciato al Cido Rota, amico di Leonardo Crespi, progetta di ricattare Alfredo per beneficiare della certificazione di un brevetto per un'attrezzatura per biciclette che potrebbe salvare il portabiciclette di Clara. Irene è senza parole. Perico non sa cosa fare, quindi racconta tutto a Irene. Clara viene a sapere cosa è successo e riesce a fermare Alfredo poco prima che possa stringere un accordo con Alciderota. Alla fine, anche Leonardo si accorge del deplorevole comportamento dell'amico e, per farsi perdonare, si offre di procurarsi personalmente i documenti per la riammissione di Clara al concorso. Umberto non è molto contento del miglioramento del rapporto tra Marcello e Adelaide e ignorerà la sua compagna Flora. Inizierà a stancarsi del suo comportamento. Intanto Irene riceve un'importante offerta di lavoro da Leonardo, e Barbieri decide di andare in Germania per firmare il contratto con Ofer. Puntata precedente, la vittoria di Clara, affiancata da Marta e Vittorio in una puntata precedente, Tancredi aveva confessato a Umberto di volere indietro Matilde. Clara riuscì invece a vincere la gara ciclistica a cui partecipò, anche se il cambio scadente installato da Perico sulla sua bici causò qualche problema con la commissione sportiva. Nel frattempo Marta e Vittorio sembravano avvicinarsi sempre di più mentre continuavano a provare sentimenti l'uno per l'altro. Intanto Maria ha deciso di andare a Parigi per incontrare Difo, e Matteo decide di seguirla per non perderla.